Quando il treno entrò in stazione, Anna uscì tra la folla degli altri passeggeri e allontanandosi da loro come dalle brosi, si fermò sulla banchina, cercando di ricordare perché era arrivata là e cosa avesse intenzione di fare. Tutto quello che prima sembrava possibile adesso era così difficile a considerarsi, specialmente tra la folla rumoreggiante di tutte quelle persone deformi che non la lasciavano in pace. Ora i facchini accorrevano da lei offrendone i loro servigi, ora dei giovani battendo coi tacchi le assi della banchina e discorrendo forte, la esaminavano. Ora quelli che venivano incontro si facevano di lato, non dalla parte giusta. Ricordatasi che voleva proseguire, se non ci fosse stata risposta, fermò un facchino e domandò se era venuto un cocchiere con un biglietto per il conte Vronsky. Il conte Vronsky? Per incarico suo sono stati qui proprio ora. Venivano incontro alla principessa Sorocchina con la figlia. E il cocchiere? Com'è? Mentre ella parlava col facchino, Michaila, rosso e allegro, con un elegante pastrano turchino e la catena, evidentemente orgoglioso di aver eseguito così bene la commissione, si avvicinò e le porse un biglietto. Ella aprì e il cuore le si strinse ancora prima di leggere. Mi dispiace molto che il biglietto non m'abbia trovato. Verrò alle dieci, scriveva Vronsky con una scrittura trascurata. Ecco, me l'aspettavo, si disse con un sorriso cattivo. Va bene, allora va a casa, disse piano rivolta a Michaila. Ella parlava piano, perché la rapidità dei battiti del cuore le impediva di respirare. No, non ti permetterò di tormentarmi, ella pensò. Rivolta con minaccia, non a lui, non a lui né a se stessa, ma a Michaila imponeva di tormentarsi, e si incamminò per la banchina lungo la stazione. Due cameriere che camminavano sulla banchina si voltarono a guardarla, facendo ad alta voce qualche apprezzamento sul suo vestito. Sono veri, dissero dei pezzi che la aveva addosso. I giovani non la lasciavano in pace. Di nuovo le passarono accanto, guardandola in viso e gridando fra le risa qualcosa con voce contraffatta. Il capo stazione, passando, le domandò se partiva. Un ragazzo, venditore di quass, non le toglieva gli occhi di dosso. Dio mio, dove andare? Ella pensava, allontanandosi sempre più sulla banchina. Alla fine si fermò. le signore e i bambini, che erano venuti ad incontrare un signore con gli occhiali e che ridevano e parlavano forte, tacquero esaminandola quando ella giunse alla loro altezza. Ella affrettò il passo e si allontanò da loro verso l'orlo della banchina. Si avvicinava a un treno merci. La banchina si mise a tremare e a lei pervede essere di nuovo in viaggio. A un tratto si ricordò dell'uomo schiacciato al suo primo incontro con Fronsky e capì quello che doveva fare. Dopo essere scesa con passo veloce, leggero, per i gradini che andavano verso le rotaie, si fermò accanto al treno che le passava vicinissimo. Guardava la parte sottostante dei carri, le viti e le catene e le ruote alte di ghisa del primo carro che scivolava lento e cercava di stabilire con l'occhio il punto mediano fra le ruote anteriori e le posteriori e il momento in cui questo punto mediano sarebbe stato di fronte a lei. Là, si diceva, guardando nell'ombra del carro la sabbia mista a carbone di cui erano sparse le traverse, là, proprio nel mezzo e lo punirò e mi libererò da tutti e da me stessa. Voleva cadere sotto il primo vagone che giungesse alla sua altezza nel punto mediano, ma il sacchetto rosso che aveva preso a togliere dal braccio la trattenne ed era già tardi. Il punto mediano l'era passato accanto. Bisognava aspettare il vagone seguente. Un sentimento simile a quello che provava quando, facendo il bagno, si preparava a entrare nell'acqua ed ella si fece il segno della croce. Il gesto abituale della croce suscitò nell'anima sua tutta una serie di ricordi virginali e infantili e a un tratto l'oscurità che per lei copriva tutto si lacerò e la vita le apparve per un attimo con tutte le sue luminose gioie passate. Ma ella non staccava gli occhi dalle ruote del secondo vagone che si avvicinava e proprio nel momento in cui il punto mediano fra le ruote giunse alla sua altezza, ella gettò indietro il sacchetto rosso, ritirò la testa fra le spalle, cadde sulle mani sotto il vagone e con un movimento leggero, quasi preparandosi a rialzarsi subito, si lasciò andare in ginocchio e in quell'attimo stesso inorridì di quello che faceva. Dove sono? Che faccio? Perché? Voleva sollevarsi, ripiegarsi all'indietro, ma qualcosa di enorme, di inesorabile, le dette un urto nel capo e la trascinò per la schiena. Signore, perdonami tutto, ella disse, sentendo l'impossibilità della lotta. Un contadino, dicendo qualcosa, lavorava su del ferro, e la candela, alla cui luce aveva letto il libro pieno di ansie e di inganni, di dolore e di male, avvampò una luce più viva che mai. Le schiarì tutto quello che prima era nelle tenebre. Crepitò, prese oscurarsi e si spense per sempre.